video games party e game stop alla pelota di milano 2010 si è appena concluso il torneo di unreal tournament in modalità death match che siamo riusciti tra l'altro per la prima volta con un piccolo sforzo tecnico anche a far fruire a tutto il pubblico intercorso numerosissimo più di 6.000 persone qui alla pelota abbiamo i tre finalisti che adesso come al solito vado a chiamare le premier insieme ad axel il terzo arrivato si chiama piemo giusto eccolo qui ciao tu vieni da bergamo da bergamo come è stato questo torneo per te come stato questa finale in death match è stata bella combattuta soprattutto con picci che è arrivato quarto e mi sono divertito parecchio insomma alla fine sei stato sopra di lui per qualche freg si un freg nei primi tre minuti non sono riuscito entrare in partita poi ho scalato la classifica sono arrivato terzo molto bene per te che sei arrivato terzo la nostra splendida axel ti omaggio con una fornitura per un anno penso di tv di verbati grazie mille ci rivedremo l'anno prossimo speriamo buon rientro a bergamo invece il secondo arrivato è toss questa volta da diemaro l'ho potuto vedere anch'io ho visto il suo modo di combattere frenetico come dice lazarus comandata guarda c'eravamo dimenticati di togliere il redentore però c'eravamo accordati di non usarlo ovviamente qualcuno ha fatto il furbetto proprio l'ha usato proprio quando avevo armor mini e ampli più sei e no no comunque stavo rimontando e ho perso di un frag mi sono perso questa cosa vi ho seguito per gli ultimi cinque minuti mi sono perso sta cosa e vabbè succede anche questo comunque la seconda posizione sempre di ottimo successo per te una scheda grafica sapphire radion hd 4770 anche tu sei collezionista di schede grafica ormai ormai si ma un po di tutti i vostri premi è un campione è un grande campione allenatevi per batterli grazie toss buon rientro anche a te e primo classificato è il nostro beppe ciao beppe ciao allora ti è andata bene sto giro si bene 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 sei tu che ha usato il redentore quindi magari no no cavolo è stata veramente tesissima con toss anche perché all'inizio lui stava vincendo poi ho rimontato e visore per fortuna avevo più tre a circa 20 secondi dalla fine lui è riuscito a ucciderne comunque due però era finito il tempo e quindi ho vinto io di uno quindi niente complimenti comunque a tutti quanti ti è andata bene anche questo giro ma voi vi volete tutti bene alla fine è una cosa così solo per la classifica allora per te una media station da un terabyte offerta da verbati grazie grazie mille grazie a te buon rientro per uti è tutto dalla pelota ci si vedrà al prossimo evento video games party il divertimento continua